Ciao a tutti, benvenuti da Leandro alla Casa dell'Arte perché oltre alla pittura del suo grande papà Sergio Maina a cui si sta sempre bene, si è accompagnati da buona musica, da belle persone, buon cibo, buon vino e tanta allegria. Questo pomeriggio è particolare perché la pianista Caterina Ardiello suonerà in memoria del nostro amatissimo Marco il sindaco di Lugano e qui oggi ci sono naturalmente suo fratello, la cognata e il nipote a cui tutti vogliamo tantissimo bene e vogliamo mostrare tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza. Il pomeriggio artistico è dedicato anche ad un'esposizione di Davide Maule, il bravissimo gioielliere che potete vedere alle vostre spalle che oggi ci parlerà di tantissime belle novità. Questo pesce che vedete in vetrina, quello molto grande, è stato realizzato su commissione del museo per essere esposto nell'abito della mostra del pesce d'oro che è iniziata lo scorso maggio 2021 ed è terminata nel settembre sempre del 2021, quindi da poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.